Il Comune di Giffoni-Valle Piana è stato ammesso a finanziamento dalla Regione per due progetti rientranti nel piano di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici per un totale di 90.000 euro. Il finanziamento in questione verrà suddiviso per il miglioramento delle infrastrutture dell'Istituto Fausto Andria, sito nella frazione Santa Caterina, e della scuola primaria Vincenzo Stavolone di Vassi. Questo doppio intervento e il commento del sindaco Antonio Giuliano permetterà di poter rendere ancora più sicure le scuole della nostra città.